Ciao ragazzi, oggi rispondiamo ad una domanda che è apparentemente semplice, ma non è così semplice. Qual è la differenza tra psichiatria e psicologia, o meglio, tra psichiatra e psicologo? Qual è questa differenza, Valerio? Io inizio a parlare di psichiatria e di psichiatriche, il mio campo preferito, fra virgolette. Beh, diciamo che lo psichiatra è un medico ed è un medico specializzato, dopo alcuni anni, nella branca della psichiatria, di conseguenza ha la conoscenza sia della diagnostica della salute mentale, solitamente, ma non sempre, quella più grave, quella più connessa anche ad alcune forme di terapia psicofarmacologica, faccio un esempio, schizofrenia, disturbo bipolare, alcune forme di panico, alcune forme gravi di ossessione e cose di questo genere, e di conseguenza lo strumento privilegiato dello psichiatra, ma non è sempre detto che sia solo quello, ma lo strumento privilegiato tradizionalmente è la psicofarmacologia, ovvero la possibilità di prescrivere alle persone dei composti che sono in grado di modificare il modo in cui queste patologie si manifestano, in alcuni casi in maniera anche molto radicale, in alcuni casi non così radicale, ed è qua che può venire in aiuto lo psicoterapeuta per completare il percorso terapeutico della persona. Ottimo, e dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, lo psicologo, in caso non lo sapessero, è una persona che ha studiato psicologia, quindi non è un medico, non può somministrare farmaci, e non può fare tutte le cose che potrebbe fare un medico, e quando finisce psicologia può fare diagnosi e trattamenti della maggior parte dei problemi di salute mentale, maggior parte dei problemi di salute mentale, tranne quelli che appunto diciamo gravi, tra virgolette, si può occupare ovviamente di quelli gravi, ma non ha gli strumenti per potersene occupare efficacemente. Solitamente lo psicologo, nel nostro ambito, ha un punto di vista che è come nella medicina, la medicina, non tutti sanno che la medicina è enorme, quando studi medicina non è che studi solo la psichiatria, studi tutte le branche della medicina e poi ti specializzi in una sola. Allo stesso identico modo la psicologia non è strettamente clinica di per sé, la clinica è solo un pezzettino della psicologia, molto grande, molto vasto, molto conosciuto, il più conosciuto per colpa di Freud, mettiamola così, e poi successivamente per diventare psicoterapeuti, dove possiamo entrare tra virgolette in un albo che è lo stesso che abbiamo in comune, dobbiamo fare anche noi una specializzazione post lauream di 4 anni. Il bordello di tutto ciò, e tu conosci bene, è il fatto che abbiamo più di 300 tipi differenti di scuole di psicoterapia, in particolar modo qui in Italia sono molto spezzettate, anche se poi alla fin fine mi pare che l'Europa ne riconosca 4, 4, 5. Come macrostrutture diciamo. Esatto, come macrostrutture. Di per sé noi utilizziamo il colloquio come strumento principale, il test, eventualmente come nei film, si vede nelle macchie, non in roshark, ma si usa anche il roshark in alcuni contesti, e si utilizza preferenzialmente la parola, anche se ultimamente esistono tanti tipi di psicoterapia corporea, potremmo chiamarle così, dove si utilizza fisicamente il corpo, dove ci sono all'interno ogni cosa che può funzionare. La cosa che dovrebbe accomunare tutte e due, nel campo della medicina secondo me molto più chiaro, nel campo della psicologia non così chiaro, è che qualsiasi tipo di strumento, che sia linguistico o meno, deve essere sperimentato, ci devono essere degli studi, ci devono essere degli esperimenti. Nel mio ambito, il terzo o il quarto com del nostro codice deontologico, c'è scritto lo psicologo si impegna a utilizzare solo strumenti validati dalla ricerca, e questo la gente non lo sa, a volte non so, gli ossi, lancio gli ossi, faccio i tarocchi, queste robe qua, non so se capita anche in psichiatria. Capita qualunque cosa, in campo medico-sanitario, e per queste ragioni, la raccomandazione che vi facciamo in maniera corale, io e Gennaro, è siate certi che la persona che si occupa della vostra salute mentale, sia comunque un terapeuta certificato, che sia un medico, specialista in psichiatria, o uno psicologo, psicoterapeuta, iscritti all'albo, e nel caso dei medici, che effettivamente abbia la qualifica di psicoterapeuta, perché diciamo essere medici non è automaticamente connesso a essere psicoterapeuti, ma anche lì c'è un percorso da fare, e quindi insomma essere sicuri che chi si occupa della nostra mente abbia le carte in regola per farlo. Stessa identica cosa vale per la psicologia, non tutti sanno che appunto per poter fare psicoterapia, bisogna essere psicoterapeuti, lo psicologo di per sé può trattare differenti cose, ma diciamo che appunto avendo visto così tante cose per avere degli strumenti davvero forti, è bene che abbia avuto un indirizzo, un indirizzo nel quale poter lavorare, un po' come hai fatto tu fisicamente a contatto con le persone, e poi poter andare dal maestro e direi maestro ho visto quello, mi ha detto questo, che cosa faccio, no? Tra virgolette. Quindi non essere diciamo così in una bolla solitaria, che può capitare soprattutto a noi psicologi, che non abbiamo, magari lavoriamo per anni senza un'equip, senza strutture, e questa cosa qui è un bonus, no? Tra virgolette, della nostra professione. La cosa che mi affascina di più di tutto ciò è che in realtà non tutti sanno che le parole, la relazione, tutto quello che riguarda la sfera psi, modifica in modo biologico la nostra mente, no? Cioè ha un effetto fisico sul nostro corpo. Questa è in realtà la questione per cui, probabilmente lo vedrete in un altro video, io e Gennaro ogni tanto ci chiediamo come mai ci sia questa divisione, e se abbia ancora senso, in questi anni 2000, continuare a fare diversificazioni così nette fra psichiatra, psicologo e altre forme di terapia, quando in realtà bisogna immaginare di essere tutti uniti in una visione olistica della persona, che prenda in considerazione tutti gli aspetti biopsico-sociali di un disagio mentale che deve essere affrontato alle volte non solo da un terapeuta, ma alle volte anche da due, no? Quindi psicoterapeuta, psichiatra o addirittura terapista della riabilitazione, educatore, quindi immaginare di vedere il disagio mentale come qualcosa di complesso, composito, e non come una visione semplicemente ideologica da affidare a questa o quella corrente culturale, no? Perfetto, o il guru o quell'altro guru, o ancora peggio, che è il paraguro di turno. Infine io voglio ricordarvi che nel 1989 è stato fondato l'albo degli psicologi, cioè è un albo bambino, è un albo ragazzino, che ha accorpato nel tempo un sacco di persone, cioè nel senso che c'erano persone che prima facevano tutt'altro, è un mattino... Interessante, molti filosofi ci sono, no? Che sono diventati psicoterapeuti. Moltissimi filosofi che hanno scritto una tesina, sono entrati nell'albo degli psicoterapeuti, no? Questo è perché stai solitamente dicono, sono stato da tanti, mi sono trovato male. Questa ovviamente non è la causa di questa faccenda, però il fatto che ci sia una frastagliata cultura, un ambiente così frastagliato, può dipendere anche da questo. L'ultima cosa da aggiungere è che anche in medicina c'è stato questo problema, perché sono due strade divise, ma molto accomunate da alcuni eventi. In medicina, prima della specializzazione, un medico per diventare specialista in gastroenterologia, che ne so, stava qualche mese in una corsia ospedaliera in cui ci si occupava di gastroenterologia, il primario gli metteva una firma, infatti ogni tanto vedete quelle targhe in cui ci sono medici, magari un poage che hanno 52 specializzazioni, dice ma questo non ha mai smesso di studiare. No, in realtà è stato qualche mese qua, qualche mese là e all'epoca si prendeva questa specializzazione che oggettivamente, grazie a dire, si è cambiata e richiede un percorso di studi molto più strutturato. E questo è super interessante, perché poi uno si ritrova di fronte a questi baroni, vado da quello lì e poi dici ma come mai quello lì non è così preparato come il Dottor Rosso? Perché il Dottor Rosso ha studiato quella cosa lì per anni, c'è una differenza fondamentale. Insomma, credo che abbiamo dato probabilmente un punto di vista su questa differenza forse un po' più eclettico rispetto a quello che si trova normalmente. Sì, sono sicuro che però queste informazioni non sono così facili da trovare, per cui tenetele e fatene buon uso. Vi ricordo che insieme al Dottor Rosso abbiamo costruito un percorso gratuito che aumenta la motivazione, l'energia personale e il focus. Si chiama Mind Fitness e potete accedervi gratuitamente cliccando nel link qui sotto. E vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale del Dottor Rosso e a tutti i suoi social. Mi raccomando, link qui sotto è gratuito.